Ragazze, svegliatevi! Oggi sento che sarà una giornata meravigliosa! Ah, Easy, ancora cinque minuti! Ma come me non la sentite? La primavera! Non respirate l'aria di primavera! Appena arriva la primavera io rinasco! Easy, scappa! Devi scappare! Eh? Cosa stai dicendo, Enea? Sei forse impazzito! Oggi è una bellissima giornata! Perché mi stai dicendo di scappare? Ti starà prendendo in giro, Easy, Enea, vattene! Voglio dormire! Altri cinque minuti! Già, altri cinque minuti! Buongiorno, care! Cosa? La anziana fata pazza vegana! Cosa ci fa qui e come ha fatto a sfondarci il tetto? Sono una fata! Non ti preoccupare, cara! Il tetto si richiuderà! Su, Easy, vieni con me! Sei in arresto! Te l'avevo detto di scappare! Enea, con te facciamo i conti più tardi! Non devi far fuggire i detenuti! No, 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 no! Usami! Cosa sta succedendo? Cosa è successo? Perché Easy è scomparsa assieme alla vecchia pazza? Perché vogliono arrestarla, cioè l'hanno arrestata! Ma perché? Easy non ha fatto nulla di male! Perché questi arrestano pure in previsione delle azioni future! Oh mio Dio, allora verrò arrestata anch'io! E anch'io? Molto probabilmente! Probabilmente! Diventerò una mente geniale e chissà quanti guai combinerò in questo mondo! Per ora su di voi non so nulla, fatto sta che devo raggiungere Easy! Easy, aspettami! Ha sfondato il tetto di nuovo! Già, si era appena richiuso! Mamma, mamma! È una catastrofe! Non avrei mai pensato di dirlo, ma... Easy mi manca! Che cosa sta succedendo? Easy se n'è andata di casa? Sì, in un certo senso sì, mamma! Ah, è tornata dai suoi genitori adottivi! C'era da immaginarselo! Già, in fondo l'hanno pur sempre adottata e cresciuta come una figlia! Avranno sentito troppo la sua mancanza! Cerri, devi fartene una ragione! Oh, mamma! Non è tornata dai suoi genitori adottivi! Lei vuole stare con noi! È solo che è stata arrestata! Cosa? Cerri, non dire sciocchezza! Avrei fatto un brutto sogno! Dai, torna... Anzi, no, non tornare a dormire perché c'è la scuola! Ripigliati, ok? Ripigliati! No, Rory, questo non è un brutto sogno! Purtroppo ero anch'io quando è successo e te lo confermo! Easy è stata arrestata! L'ho detto, mamma! Cosa? Non avrei mai pensato che Easy potesse finire arrestata, Cerri! Tu eri la miglior candidata per finire arrestata in giovane età! Non avrei mai scommesso su Easy! Questa è una sorpresa! No, mamma, non scherzare! Easy è stata sul serio arrestata! Ed ora... dove andremo? No, Cerri, non sto scherzando! Easy mi è sempre sembrata una brava ragazza e tu... Invece un po' pazzerella! Guarda com'è strana la vita! Easy è stata arrestata e Cerri invece è ancora qui a piagnucolare! Evidentemente abbiamo fatto un buon lavoro con Cerri! Abbiamo cresciuta bene se non è ancora stata arrestata! Oh mio Dio, ma voi due siete pazzi! Mamma, voglio andare da Easy! Mamma, devi tirarla fuori di prigione! D'accordo! Chiamiamo Agatha, l'avvocato di famiglia! Ma è l'amica della nonna! Quelle due sono un po' strambe! Ma è l'unico avvocato che conosciamo e poi ha sempre aiutato la nostra famiglia! Anche quando si è trattato dell'affidamento di Jenny e ha vinto la causa! Penso proprio si conosca con il giudice! Sarà meglio sfruttare la sua amicizia importante e influente! D'accordo! In fondo, mi basta che Easy esca di prigione! Mi lascia andare immediatamente, deve essere su una cosa! Mi dispiace, cara! Ma qui non c'è nessun errore! I guardiani dell'universo sono stati chiari prelevare Easy! No! Ehi, aspetti, vecchietta! Vecchia vegana! Ehi, Easy! Non dare della vecchia a quella signora! È maleducato dare ad un anziano del vecchio! Cosa? Ma mi ha arrestata! Mumu! Anche tu sei stato arrestato! Sì! È una lunga storia! Ma da te non me lo sarei mai aspettato, Easy! Ma infatti c'è un errore! Dicono tutti così! E poi, eccoci qui! In prigione, a scontare la nostra pena! No, 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 no! Questo è il posto sbagliato per me! Easy, tu qui non puoi entrare alla sezione dei maschi! La tua camera è di qua! Guarda! Qui ci sono tutte le tue compagne detenute! Stai scherzando? Mumu! Ma perché non sei scappato da qui? Non ti rendi conto che questa è un'ingiustizia? Forse... No, e comunque è impossibile scappare da qui! Questo istituto è controllato dalla magia! Cosa? Belinda? Che dorme con gli occhi aperti! Non ha perso questo vizio! Eh? Easy, ciao! Mi stavo solo riposando! Che bello vederti qui! Cioè, volevo dire... Sono contenta di vederti! Mi dispiace che tu sia stata arrestata! Ma sai, in fondo ho sempre saputo che eri una cattiva ragazza! Cosa? No, c'è un errore! Se sono qui! Chi è che fa tutto questo baccano? Easy! Oh, guarda chi c'è! Easy! Oh mio Dio, Mary e Margaret! In persona! E grazie per avermi aiutata quando sono stata spedita a Parigi! Grazie! Ehm, scusami che avevo sempre qualcos'altro da fare! Aspetta, questa voce la riconosco! Easy! Ehm, cosa? E tu chi saresti? Oh, non ti ricordi più di me! Ma sono Renée e Easy! Voi potete aiutarmi ad aggiustare la memoria di Easy? Che cosa ci dai in cambio? Vi do la mia porzione di dolce di oggi! Hmm, affare fatto! No, 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 non così poco! Quella di oggi e quella di domani! Ok! Rinuncerò al mio dolce per due giorni! Ma voglio che Easy si ricordi di me! D'accordo! Teniti per mano, sorella! Ma cosa state dicendo? Siete tutti matti qui! È quello che dicono tutti! Ma la smettete di urlare? Gianni? No, sono Jennifer! Oh mio Dio, ho appena avuto un'illuminazione! Renée, come ho fatto a scordarmi di te? Hai visto? Mary e Margaret sono due manipolatrici della mente! Riescono a riattivare anche i ricordi più remoti! Oppure a cancellarteli! Meglio farsene amiche che nemiche! Renée, ricordati! Due porzioni di dolci! Adoro i dolci! E qui non ce ne danno mai abbastanza! Renée, ma... È tutta la tua famiglia! Con tessina! Vladimir, a dove sono finiti? Ora che ricordo tutto! Mi meraviglio di come abbiamo fatto a dimenticarvi! Eravate nostri amici e anche... Eravamo mezzi imparentati! Per via di Bartolo! Lo so, ma te l'ho detto! Io venivo da un altro multiverso e... Avevo trascinato con me e tutta la mia famiglia! Perciò io sono qui perché ho scombinato i mondi, i vari universi! Mi hanno arrestata e i guardiani dell'universo hanno rimesso le cose a posto! Ora la mia famiglia vive nell'universo giusto, lontano da voi! Ma è terribile! Io adoravo con tessina e Vladimiva! Lo so, ma i guardiani dell'universo hanno deciso che è meglio così! I guardiani dell'universo non sanno proprio un bel nulla! Non ci lasciano la libertà! E allora io dico libertà! 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 No! Ma com'è possibile? Non posso neanche pensare di volermi ribellare che subito vengo punita! Non è giusto! Ancora qui a pelare cipolle! Cosa? Belinda è spavita? Eh, semplice! Sarà andata a pelare le cipolle! E la stai per raggiungere anche tu! Guarda, sei entrato nel dormitorio femminile! No! Cosa? Ha spavito Mumu? Tieni, fai un bel soffritto! E allora? Cioè, fatemi capire! Questo è il dormitorio femminile e i ragazzi non possono mettere piede qui dentro! Hai capito bene, ma tanto di ragazzi c'è solo Mumu, capirai! Beh, benvenuta, Easy, tra noi! Ma io non ho fatto nulla di male! Qui c'è un errore! Beh, a meno che tu non abbia una gemella o che ne so! Non c'è nessun errore! Non ho nessuna gemella! Ma io non sono malvagia! Ma neanche noi! Già, non siamo malvagie! Neanch'io, eppure! Guarda dove sono! Ragazze! So che cosa possiamo fare! Allora, questa è una prigione magica, da quel che ho capito, giusto? Complimenti per l'arguzia! No, smettetela, vuol dire che qui arrivano solo le creature magiche! Io sono un'invocatrice! Non ti vantare! Essere un'invocatrice non è poi così bello! Già! Beh, a me piace! Posso invocare un sacco di spiridei! Beh, se solo ne fossi in grado! Al momento ne invoco praticamente solo uno! Il grande demone celeste! Non pensare che arrivi qui dentro! È difficile usare la magia qui! Ma Mary e Margaret l'hanno fatto! Mi hanno fatto ricordare di te! Sì, ma loro hanno il loro cristallo! Cosa? Abbiamo un cristallo che abbiamo nascosto! E questo ci permette di incanalare lì la nostra magia e di prenderla a nostro piacimento per usarla! Anche contro lo scudo barriera dell'istituto IPM! Ah, ok! Quindi non posso invocare il grande demone celeste! Non puoi farlo! Ma puoi usare la tua magia non appena ti faranno andare a lavorare fuori dall'istituto! Cosa? Mi faranno andare a lavorare? Già, è terribile! Oltre a stare in prigione dobbiamo pure lavorare! Ma questo è un incubo! No! E comunque, Isi, se vuoi saperlo! Io non sono neppure una creatura magica! E se c'è un errore qui, quell'errore sono io! Io non sono magica! Questi sono pazzi! E mi hanno presa controlegge! Ti hanno presa controlegge! Questo è un termine buffissimo, controlegge! Jennifer! In effetti mi ha fatto un po' ridere! Smettetela, è vero! Io non sono magica! Aspettate un attimo! Dobbiamo assolutamente fare uno schema! Uno schema, Isi! Sì, come insegna il buon saggio Enea! Ma cosa stai dicendo? Uno schema di cosa? Se questo è un istituto per ragazze magiche... Beh, vuol dire che lo sei anche tu, Jennifer! Quindi, ricapitolando, io sono un'invocatrice! Queste due gemelle malefiche sono delle manipolatrici mentali! Non siamo malefiche! Voi ci avete giudicato male! Vabbè, comunque siete in prigione! Quindi qualcosa di malvagio lo avrete pur fatto! E lei è una strega! Io sono una strega! Una giovane strega, la più potente dell'universo! Se solo riuscissi ad usare i miei poteri qui dentro, sono alquanto limitati! Mi sento una principiante! Questo significa, cara Jennifer, che sei una creatura magica anche tu! Non vedo come io possa essere magica! Semplice! Sei la gemella di Jenny! E allora? Jenny ha mangiato una caramella che ha creato Aya in laboratorio! Quella caramella l'ha trasformata in un'arpia! Quindi io sarei un'arpia? Beh, senti, lo so che mi odiate tutti quanti, ma darmi pure dell'arpia non ti pare esagerato? È ciò che sei, mia cara, un'arpia! Caspita, le arpie sono davvero potenti! Guarda qua, c'è un libro che ne parla! C'è un libro sulle arpie! Beh, c'è un libro per ogni creatura magica, a dir la verità! Volete sapere che cosa fanno le arpie? Se volete vi leggo il libro! No, grazie! Non mi interessa, vado a fare colazione! No, e dai! Non volete sapere che cosa può fare Jennifer? Dobbiamo conoscerci meglio! Beh, ci farai più tardi un riassunto! Già, noi andiamo a fare colazione, sinceramente ho fame! Ma dici sul serio? Easy, io sarei un'arpia! Certo, Jenny lo è! Perciò... Beh, probabilmente lo sei diventata anche tu! Ci sarà una qualche connessione tra i gemelli o tra voi due! Beh, effettivamente può essere! Oh, interessante! Cosa stai leggendo, René? C'è la storia di un'arpia molto famosa! L'arpia Magdalena! Mmm? Mai sentita! Questo perché tu non sai nulla del mondo magico, cara! Raccontaci pure, René! Beh, questa arpia Magdalena è stata arrestata dai guardiani dell'universo per aver tentato uno scambio di anime! Cosa? In pratica ha spostato un'anima e l'ha messa in un altro corpo! E l'anima di quel corpo l'ha messa nell'altro corpo! Cioè, non so se mi sono spiegata bene... Ha scambiato... Le anime di due corpi le ha invertite! Come quello che avevi fatto tu con Gianni, praticamente! No, non ho fatto una cosa del genere! Mi sono finta a lei! Ma non ho fatto uno scambio vero e proprio! Ti hanno arrestata per questo? Forse perché... Oh, avresti potuto finire come Magdalena! Avresti fatto un vero e proprio scambio di anime! Ma certo, sei un'arpia! E già, eri sulla cattiva strada! Aspetta, voi mi state dicendo che io ho il potere di scambiare le anime presenti nei corpi? Oh, vabbè, sei un'arpia! Le arpie controllano le anime! Oh, mio Dio, ma questo è fantastico! Ci sono libri su... Come posso sviluppare i miei poteri? Forse non avremmo dovuto leggergli questo libro! Ma io penso sempre che la conoscenza sia importante! Ma forse nel caso di Jennifer la conoscenza è solo pericolosa! Beh, tutti i libri sono in biblioteca, i libri più importanti! Ma noi non possiamo andarci! Cosa e perché no? Perché gli unici libri che possiamo leggere ce li hanno messi qui! Sono libri in cui si parla dei guardiani dell'universo e dei crimini che hanno sventato! Penso l'abbiano fatto per farci riflettere! Oh, mio Dio! Quindi sono solamente libri educativi? Sì, educativi! Infatti questo parla delle arpie! Aspetta! Questo è sulle invocatrici! C'è un'invocatrice che ha fatto un crimine davvero assurdo! Vuoi sentirlo, Easy? No, grazie! Preferisco rimanere nell'ignoranza in questo caso! Ehm, Aya, scusa se te lo dico, ma sei venuta a scuola in pigiama! Oh, mio Dio! È che sono talmente fusa che non mi sono accorta! Non ti preoccupare, anch'io sono in pigiama! La figuraccia la facciamo tutte e due! Ragazze, ma perché? Ma perché state piangendo? Ma dov'è, Easy? È questo il punto, Easy è stata arrestata! Cosa? Stai scherzando, Cherry? Perché mai? Easy è la bontà fatta a persona! Ehm, amico, non sei sconvolto? Sono cose che capitano, in fondo. Come si dice sempre in tv, può capitare quando meno te lo aspetti, anche il vicino di casa che sembra tranquillo e... Un bonaccione può essere in realtà un criminale. A quanto pare, Easy non era poi così buona. Ma no, c'è un errore! Già, Felix, c'è un errore, Easy è buona! Ed ora la mamma sta parlando con il giudice, assieme ad Agatha, l'avvocatissa di famiglia. Ehm, si può almeno andare a visitare Easy? Sarà preoccupata! Già, sarà distrutta, poveretta! La mamma sta chiedendo al giudice anche questo, forse possiamo andare a trovarla nell'orario delle visite. Speriamo e... Dobbiamo elaborare un piano per farla fuggire di lì. Non so, Aya, per me non state ragionando, siete addirittura venute a scuola in pigiama. Vuol dire che in questo momento non siete in grado di elaborare un piano per far fuggire Easy da un istituto penitenziario. È vero! Oh no, Easy è spacciata! Ma posso aiutarvi io? Felix, lo sapevo, tu sei un genio! Mary, Margaret, vi devo parlare. Cosa c'è, Jennifer? Ecco, voi mi sembrate le più sveglie qui dentro. Certo, lo siamo. E anche le più potenti. Sì, e qualcosa mi dice che non è solamente per via del vostro cristallo. Ehm, ho come l'impressione che abbiate sviluppato profondamente i vostri poteri. Beh, ecco, è da quando siamo piccole che li usiamo. Beh, e che cosa vuoi, Jennifer? Già, che cosa vuoi da noi? Noi non ti daremo il nostro cristallo. E comunque sappi che dentro a quel cristallo c'è solo il nostro potere di manipolazione mentale. Non funzionerebbe con te. Tu non sei una manipolatrice mentale. Lo so, sono un'arpia, ma ho bisogno di sviluppare il mio potere. Certo, e vuoi avanzare di livello così, schioccando le dita? Tu non sai nulla di poteri magici e... Oggi hai scoperto di essere un'arpia e già... Vuoi essere in grado di utilizzare tutta la magia che possiedi repressa dentro di te? Complimenti, continua pure a sognare. E dai, deve esserci un modo. Quest'istituto è circondato da una barriera. Io non posso neppure allenarmi. Non posso allenarmi a sviluppare i miei poteri. Ci sarà un modo. C'è sempre una scappatoia. Aspetta un attimo. In effetti potrebbe esserci. Ma ti costerà caro. Non vi preoccupate. Vi darò tutti i dolci che... Beh, riceverò. Ogni dolce sarà vostro. Per tutta la vita? Beh, per tutta la vita che rimarrò qui in IPM, spero non per sempre. Interessante, io adoro i dolci e non mi bastano mai. Quindi, affare fatto. Cosa? Ma non c'è alcun modo. No, pensaci Mary. Ti ricordi quando eravamo pelate? Oh, certo. Avevamo un potere immenso. Esatto, eri saputo. La tua forza spirituale accrescerà rasandoti la testa. Cosa dovrei rasarmi? Sì. Beh, pensaci, tutti i monaci sono rasati. Ci sarà un perché. Questo accrescerà il tuo potere e probabilmente potresti allenare il tuo potere da arpia. Almeno un pochino. Sono sicura che la barriera non può nulla contro una pelata. Cosa? Voi dite che per usare la mia magia dovrei diventare la pelata? Sì, assolutamente. Margaret, dobbiamo rasarci anche noi e magari riusciremo a fuggire di qui, tra il cristallo e l'essere pelate. Chi ci ferma più? Voi non starete mica pensando di diventare pelate. Perché no? Noi vogliamo solo fuggire da qui. Beh, allora affare fatto. Diventeremo le pelate. E ti aiuteremo a sviluppare la tua magia. Perché vuoi farlo? Perché vuoi aiutarla? Penso che potrebbe diventare nostra amica. In fondo mi sta simpatica. Cosa? Volete davvero diventare mie amiche? Io non ho mai avuto delle amiche. Perché no? Potremmo essere le migliori nemiche per sempre. Sarebbe perfetto. Affare fatto. Ci sto. Ora dobbiamo solo trovare un rasoio. Ma dove lo troviamo, un rasoio? Beh, ho un'idea. Enea? Giusto, il nipote della fata vegana. Ogni tanto viene qui. Costi quel che costi. Io avrò la vita di mia sorella Jenny. Ed ora che ho scoperto di essere un'arpia. E ho scoperto di poter manipolare le anime. E spostarle dai corpi. Beh, nulla mi può affermare. Sono disposta pure a diventare la pelata.